io sono qui per fare un appello un appello perché il 16 gennaio si terrà una partita molto molto importante quindi è una un evento internazionale perché la supercoppa italiana juventus milan nello stadio di jedda quindi in arabia a sua dita fin qui tutto ok tranne che per il fatto che le regole per assistere a questa partita vanno contro quello che è l'emancipazione e contro quello che sono i diritti delle donne perché le donne potranno partecipare so a visionare naturalmente vedere la partita solo se accompagnate dai propri uomini o comunque i maschi della famiglia padri fratelli figli questo è assolutamente inammessibile per la nostra costituzione perché l'articolo 3 prevede che le donne comunque questo è una regola fondamentale per la nostra democrazia e le donne hanno lottato per ottenere i diritti in tutti questi anni e noi godiamo noi come donne di questi diritti e gli uomini sono assolutamente con noi in tantissime occasioni anche in questa per disapprovare questa regola che però la lega di serie a di calcio italiana ha assolutamente approvato quindi noi saremmo relegate le donne che assisteranno a questa partita perché poi comunque anche vero che voglio dire è un diritto comunque andarci o non andarci ma per quelle che ci vanno è assolutamente inammessibile che vengano messe in un recinto l'apartheid è stata sconfitta in in sudafrica per quanto riguarda i neri e devo dire che invece per le donne c'è ancora questo classismo assurdo e c'è questa regola che alla fine diventa una regola di politica non una regola di sicurezza a livello appunto di di sicurezza delle partite quindi io faccio appello a tutte le donne e gli uomini che con me sono contro questo tipo di di relegazione o comunque di comportamento ed atteggiamento a livello internazionale e che l'italia abbia firmato questa regola assurda inammissibile per assistere a questa partita affinché le donne vengano relegate negli diciamo così accompagnati o comunque messi in luoghi specifici dello stadio fate con me una un appello come sto facendo io affinché la partecipazione delle donne comunque a questo punto è meglio che non ci siano e in ogni caso che venga ritirata perché non è non è assolutamente ammissibile questo tipo di atteggiamento e poi tra l'altro mi faccio una domanda perché andare in arabia saudita a fare una partita di supercoppa italiana fate con me questo appello chetti carraffa milano